Ti amici allora benvenuti in questo nuovo video dopo veramente troppo troppo tempo Allora tengo questi occhiali da mosca perché sono veramente giganti Perché sto mi giocata? Beh rimaniamo così perché sto andando a massa in agenzia a scattare quindi devo fare uno shooting Perciò ho detto visto che è un po' che non faccio video e che soprattutto non registro Beh credo che sia proprio la giornata ideale quindi vi porto un po' con me in questo pomeriggio più che giornata Dai quindi il vlog di questo pomeriggio adesso se riesco vi faccio vedere anche come sono vestiti Allora ho questa camicettina bianca con tutto questo con questo dettaglio il mio cappottino beige Poi ho messo un pantaloncino in pelle e poi degli stivali alti Allora mentre mia mamma mi insulta e mi dice che sono scema Questo qui è detto questo Detto questo vi porto quindi nel mio pomeriggio insieme a me E niente quindi ci vediamo quando arrivo sul set Il mio pomeriggio insieme a me Siamo già a qualche cambio e sono emozionata Non voglio farvi vedere un sacco di video che mi hanno fatto durante insomma gli scatti E soprattutto non vedo l'ora di montare questo video che sarà molto breve ma mi chiedo scusa Siamo arrivati all'ultimo look E ora facciamo un ginsenghino perché abbiamo fatto un sacco di cose fighe e poi lo vedrete Io non dico niente Vedete tutto vedrete 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 tutto Questo look bellissimo della setta La melissa ciao Amici Allora Truccata così e così vestita Ma come avete visto l'outfit era bomba Sì sto mangiando la cioccolata Post shooting Cioccolata ovviamente Fondente e non sponsorizzo la novi Iscriviti al canale ? Grazie a tutti.